salve a tutti faccio questo video perché non capisco certe persone perché certe persone fanno i video di corsi gratuiti e non spiegano proprio direttamente sul primo video che fanno di cosa si tratta quel video visto che volete aiutare a guadagnare le persone fate questo video per spiegare come ci si guadagna perché non lo spiegate direttamente come faccio io le cose direttamente in un video soltanto senza fare video corsi che a volte sono a pagamento a volte sono gratuiti perché io per esempio non mi fido non mi fido infatti non vengo mai a cliccare su clicca qui perché non mi fido perché io mi fido di più delle persone che spiegano direttamente su un video che fanno solo un video e lo postano in un gruppo di guadagno su facebook perché fare gruppi telegram canali telegram che sono tutte fregature le cose che sono dentro telegram fate magari un canale youtube privato cioè che pubblico per tutti ma di voi privati che offrite questi metodi per guadagnare e fate i video per ogni argomento per ogni argomento ecco così almeno spiegate in quel video di cosa tratta e la gente ci pensa se fare quel lavoro oppure no mettete un link invito per registrarsi punto e via non state a fare tanta manetta manetta a spiegare in un altro ipertesto che tocca cliccare qui tocca cliccare qua ipertesti per andare a cercare le cose che spiegate no no non ci sto non mi sta bene sta cosa sinceramente non mi sta bene perché la gente vuole la semplicità la gente come me seria sincera reale soprattutto e soprattutto senza investimenti di soldi la gente seria vuole certe cose vuole che iniziare subito un lavoro online non è che deve andarci vedere il video corso ecco basta di date un sito gli spiegate dove devono andare a di a cliccare tutto e le persone capiscono cosa devono fare non c'è bisogno di fare video corsi su corsi su corsi o video conferenze andate a vedere i miei gruppi di guadagno come sono impostati ecco io faccio lavorare subito le persone appena vengono nei miei gruppi di guadagno io non faccio video promozionali prima prima cosa non faccio inserzioni quindi le persone quando vedono che io menziono i miei gruppi ci cliccano e si trovano subito tutte le spiegazioni si trovano sul mio gruppo sui miei gruppi di guadagno attraverso quei link che metto dei gruppi e trovo già subito le spiegazioni e link invito se ci sono link invito perché stare a fare mille corsi gratuiti per spiegare il metodo il mio metodo e così così cosa così ma lo volete spiegare direttamente in un video oppure per iscritto alle persone perché non è che su tutte le persone sono uguali e per capire le cose quindi alcune persone fanno anche difficoltà a cliccarci perché non si fidano perché non sono capace certe persone c'è boh non capisco sinceramente non capisco perché perde tempo a fare i video così le video inserzioni che dite poche parole dite e poi dite cliccate qui cioè perché cliccare ma spiegatelo direttamente se ho finito lavoro spiegatelo direttamente com'è sto lavoro perché io che guardo dico mo spiegherà parlerà di questo metodo subito dice no allora io scorro scorro via mi viene così spontaneo così mi viene ciao a tutti buon tutto